Un capanno dove erano ricoverate attrezzature per allestimenti esterni, sedie, gazebo e pedane in legno, è andato a fuoco al ristorante Villa Picinetti, in località San Biagio, sulla collina che si affaccia sul mare, poco dopo, le 14 di oggi. Il capanno esterno alla struttura centrale si trovava sul lato interno della proprietà, sul lato strada. Sulle cause che hanno innescato le fiamme, i vigili del fuoco propendono per una causa accidentale. Probabilmente le alte temperature raggiunte all'interno per il sole coccente, unita ad un effetto lente delle vetrate, può aver innescato il rogo, non essendoci energia elettrica e non essendo stati trovati elementi sospetti. Le fiamme, prima dell'intervento dei vigili del fuoco di Fano, sono state aggredite dal personale della struttura che ha fatto ricorso agli stentori in polvere in dotazione, contenendole, cosa che ha impedito all'incendio di propagarsi e di estendersi ad altre strutture del complesso, cosa assai probabile visto anche il forte vento presente nella zona. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, tra cui un autobotte, in poco meno di un'ora hanno avuto il meglio sulle fiamme. Sul posto, oltre a loro, sono intervenuti una volante del commissariato di Fano, una pottuglia dei carabinieri ed una della polizia municipale. Non si registrano danni fisici a persone ed il fumo, denso e nero, è stato ben visibile anche da tutta la città.